Ciao, benvenuti in questa rubrica del profumo della settimana. Questa settimana indosserò lui a incanto Resistible. Questo è un flaconcino da 50 ml. Le note di testa sono lampone, note di cuore magnolia, le note di fondo sensuale ambra. La fragranza si apre con un aroma fruttato di lampone, il suo cuore vibrande con un accento di magnolia e avvolge i sensi mescolandosi perfettamente con l'aroma di sensuale ambra per permettere perfettamente il risalto la sua femminilità. Questo profumo devo dire che è abbastanza persistente e dura perlomeno su di me 5-6 ore. Quindi ve lo consiglio, è un buon profumo fra le altre cose, molto fresco, secondo me è indicato anche per le stagioni più calde, per la primavera estate. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo presto per un altro video. Ciao a tutti, buona serata!